Scegli oggi il tuo domani. Ciao, mi chiamo Elisa e mi sono laureata all'Università dell'Insubria in Chimica Magistrale 5 anni fa. Al momento lavoro in una farmaceutica per la produzione di API, ma in passato ho lavorato anche per la ricerca applicata e per il farmaceutico nella produzione di formulati destinati alla vendita. Il percorso all'Insubria mi ha permesso di acquisire buone competenze nelle varie branche della chimica e grazie a questo sono stata in grado di rispondere alle differenti esigenze delle differenti aziende per cui ho lavorato finora e per cui chissà lavorerò. Un grosso in buco al lupo a tutti per il futuro. Ciao!